quanto agli avvenimenti mondani era ancora un piacere arbitrariamente teatrale che madame de guermont provava a emettere su di essi quei giudizi imprevedibili che eccitavano con sorprese continue e deliziose la principessa di parma cercai di capire di che genere potesse essere questo piacere aiutandomi non tanto con la critica letteraria quanto basandomi sulla vita politica e sulla cronaca parlamentare gli editti successivi e contraddittori con i quali madame de guermont rovesciava in continuazione l'ordine dei valori nelle persone del suo ambiente non bastavano più a distrarla così anche nel modo con cui dirigeva la propria condotta sociale con cui rendeva conto anche delle sue più insignificanti decisioni mondane cercava di gustare quelle emozioni artificiose di obbedire a quei doveri fittizi che stimolano la sensibilità delle assemblee e si impongono allo spirito dei politici si sa che quando un politico spiega alla camera che ha creduto di agire correttamente seguendo una linea di condotta che in effetti sembra assai semplice e chiara all'uomo di buonsenso che l'indomani legge nel suo giornale il resoconto della seduta questo lettore di buonsenso si sente tuttavia di colpo turbato e comincia a dubitare di aver avuto ragione ad approvare il ministro vedendo che il discorso di costui ha suscitato nell'uditorio vivaci contrasti ed è stato puntualizzato da espressioni di biasimo del genere è inaudito espressioni pronunciate da un deputato il cui nome e i titoli sono così lunghi e seguiti da tumulti così vivaci che in tutta l'interruzione la frase è inaudito tiene meno posto di un emistichio in un alessandrino per esempio un tempo quando messia de guermont principe di l'homme sedeva alla camera qualche volta nei giornali di parigi benché fosse soprattutto destinato alla circoscrizione di mese glise e al fine di mostrare agli elettori che non avevano dato i loro voti a un deputato inattivo e muto si leggeva monsieur de guermont bouillon principe di l'homme è gravissimo benissimo benissimo al centro e in alcuni banchi a destra vivaci proteste all'estrema sinistra il lettore di buonsenso serba ancora un barlume di fedeltà al saggio ministro ma il suo cuore prende a battere più velocemente alle prime parole del successivo oratore che risponde al ministro non è troppo parlare di stupore e sbalordimento viva sensazione nella parte destra dell'emiciclo per le parole di colui che ancora suppongo membro del governo scoppi di applausi alcuni deputati si accalcano verso il banco dei ministri il sottosegretario di stato alle poste telegrafi dal suo posto accenna con il capo un segno affermativo quello scoppio di applausi travolge le ultime resistenze del lettore di buonsenso trova insultante per la camera mostruoso un modo di procedere in sé insignificante all'occorrenza troverà scandaloso qualche fatto normale come voler far pagare ai ricchi più che ai poveri far luce su un'iniquità preferire la pace alla guerra e vi vedrà un'offesa a certi principi ai quali non aveva effettivamente pensato che non sono iscritti nel cuore umano ma che provocano forti emozioni a causa delle acclamazioni che scatenano e delle compatte maggioranze che riescono a raccogliere intorno a sé bisogna ad altronde riconoscere che questa sottigliezza degli uomini politici che mi servì a spiegare l'ambiente germant e più tardi altri ambienti non è che la perversione di una certa finezza interpretativa spesso designata con la locuzione saper leggere tra le righe se nelle assemblee la perversione di questa finezza arriva all'assurdo la mancanza di tale finezza è anche indice di stupidità nel pubblico che prende tutto alla lettera che non sospetta una revoca quando un alto dignitario è esentato dalle sue funzioni dietro sua richiesta e pensa non è stato destituito sia stato lui a chiederlo né immagina una disfatta quando i russi con una mossa strategica si ritirano davanti ai giapponesi su posizioni più fortificate e prestabilite né un rifiuto quando una provincia avendo chiesto l'indipendenza all'imperatore di germania costui accorda l'autonomia religiosa è possibile del resto per tornare a quelle sedute alla camera che all'inizio i deputati stessi siano simili all'uomo di buonsenso che ne leggerà il resoconto venendo a sapere che degli operai in sciopero hanno inviato i loro delegati a un ministro può darsi che ingenuamente si chiedano beh vediamo un po che cosa si sono detti speriamo che tutto sia giusti mentre il ministro sale sulla tribuna in un profondo silenzio che già sollecita emozioni artificiose le prime parole del ministro non ho bisogno di dire alla camera che ho troppo alto il sentimento dei doveri del governo per aver ricevuto questa delegazione che per l'autorità della mia carica non posso riconoscere costituiscono un colpo di scena perché era la sola ipotesi che il buonsenso dei deputati non avesse formulato ma proprio perché costituiscono un colpo di scena queste parole sono accolte da tali applausi che soltanto dopo alcuni minuti il ministro riesce di nuovo a farsi sentire quello stesso ministro che ritornando al suo banco riceverà le congratulazioni dei suoi colleghi si prova la stessa emozione del giorno in cui egli ha trascurato di invitare a una grande cerimonia ufficiale il presidente del consiglio municipale che era all'opposizione e si dichiara che in questa come nell'altra circostanza ha agito davvero uomo di stato messio de guermont in quel periodo della sua vita era stato con grande scandalo dei courvoisier spesso dalla parte di quei colleghi che andavano a congratularsi con quel ministro più tardi ho sentito raccontare che anche nel momento in cui svolse un ruolo abbastanza importante alla camera e si pensava a lui per un ministero o un'ambasciata quando un amico veniva a chiedergli un favore era molto più alla mano e recitava in politica molto meno la parte del grande personaggio di chiunque non fosse stato il duca di guermont infatti si dichiarava che la per lui non aveva alcun valore e che considerava i colleghi come suoi pari non credeva una parola di quel che diceva ricercava fingeva di stimare ma disprezzava le cariche politiche e siccome restava ai suoi occhi sempre messio de guermont queste cariche non gli imponevano quella rigidezza tipica degli alti funzionari che rende molti di loro inavvicinabili e così il suo orgoglio proteggeva da qualsiasi attacco non soltanto i suoi modi di una familiarità ostentata ma anche quel tanto di autentica semplicità che poteva esserci in lui